previsioni meteo di martedì 23 giugno al nord nubi e temporali sparsi su alpi e prealpi in estensione nel pomeriggio in gran parte della valpadana centro orientale al centro e al sud bel tempo su tutte le regioni salvo qualche possibile piovasco in toscana in nottata piogge su campania e lucania venti deboli moderati mari da poco mossi ammossi temperature in lieve aumento